13 secondi dalla fine del recupero, sulla percussione di Tedesco trasformata dal centravanti in un'abile stilettata. Per Amoruso 10 squadre frequentate in carriera, quinto gol stagionale, 68esimo in totale. Ho girato un po' e quest'anno si è arrivato la regina. Stiamo lottando per un obiettivo per noi importantissimo che è la salvezza.